del circondario perché evidentemente la manifestazione che è stata indetta dalla CGL per sabato prossimo ha un carattere particolare e straordinario, in questi ultimi due anni di manifestazione ce ne sono state parecchie riteniamo però anche noi che quella di sabato abbia una sua specificità che mi sentirei di riassumere in questo modo da un lato c'è credo un passaggio di fase anche all'interno di quel grande sindacato a cui faceva riferimento Gabriele dato non solo ma anche dall'elezione della nuova segretaria, per la prima volta segretaria donna un passaggio di fase che viene anche dalla necessità espressa dalla CGL stessa che si sta impegnando poi nella discussione in un tavolo con tutte le parti sociali ma anche il governo e questa è la grande e vera assenza un passaggio di fase per provare anche a ricostruire un terreno di condivisione di alcuni punti critici a cui si fa riferimento anche dentro l'ordine dei giorni, tavolo in cui peraltro mi sembra di capire si stanno anche verificando delle convergenze notevoli tra CGL e Confindustria su alcune questioni di casi riforma fiscale, di casi ammortizzatori sociali per cui io vedo in questo un passo in avanti per il nostro paese perché con i numeri che caratterizzano la nostra economia pensare di poterne uscire o anche solo cominciare a rimettere qualche passo della ripresa come invece altri paesi europei stanno già facendo senza passare attraverso una riunificazione degli intenti, della legittimazione reciproca non so se sia il termine giusto ma ci si capisce tra le parti sociali credo sarebbe complicato, sbagliato forse ci farebbe perdere per la strada mi sembra invece che la manifestazione di sabato abbia questo carattere non a caso poi è stato scelto come slogan e come punto centrale della piattaforma il futuro e i giovani perché probabilmente siamo, visto l'età la parte che da un punto di vista generazionale e sociale nel nostro paese sta pagando di più i danni di questa fase e credo sia un segno di grande attenzione da parte della CGL quello pur dentro le tante difficoltà che attraversano il paese mettere al centro questo punto e su questo punto provare anche a far convergere tutte le altre forze per questi motivi noi siamo convinti che il nostro consiglio comunale debba discutere e per quanto ci riguarda sostenere le motivazioni che spingono la CGL a questa iniziativa vi propongo però una modifica a quest'ordine del giorno così come è già stato fatto all'interno del consiglio comunale di Vinci sullo stesso testo peraltro, se non vado errata e di togliere l'adesione formale perché riteniamo che questo non sia un compito del consiglio comunale che quindi non si possa trasformare dicendo che condividiamo e sosteniamo la manifestazione e noi non voteremo a favore della rappresentanza con il gonfalone quindi con queste due modifiche voteremo a favore dell'ordine del giorno naturalmente credo di averlo spiegato non perché non siamo convinti delle ragioni e delle motivazioni ma perché non ci sembra opportuno nemmeno in questo caso che ci sia un'adesione formale dell'istituzione consiglio comunale poi credo che il sindaco magari possa anche aggiungere qualcosa so che tutti i nostri sindaci stanno anche ragionando assieme con una posizione comune rispetto a questo tra l'altro anche la richiesta della CGL non è una richiesta di adesione formale dell'istituzione con il gonfalone quindi ritengo che questa possa essere una posizione condivisibile magari consigliere Barnini credo che sarebbe opportuno questa modifica formalizzarla con la presentazione di un emendamento al quale poi si chiederà ai consiglieri proponenti se accettarlo o no nel caso in cui non venisse accettato l'emendamento presentato da voi diventa ordine del giorno e quindi assume un altro documento e quindi verrà votato insieme poi all'ordine del giorno siccome è presentato a proponenti questo per chiarezza ci sono altri interventi? troppa roba allora no credo sia importante in questo momento fare anche un attimo un po' di chiarezza io apprezzo da questo punto di vista in parte la posizione appena espressa dal capogruppo di maggioranza perché comunque vada come cittadino di Empoli sinceramente non avrei accettato una strumentalizzazione del gonfalone della città ad una manifestazione come questa non posso accettare che il consigliere Bini indichi quelli che sono i sindacati che rappresentano quelli che possono rappresentare il mondo del lavoro e quelli che invece non lo rappresentano che si possa permettere di individuare chi oggi fa gli interessi del lavoro e chi invece no io da questo punto di vista credo che sia un po' arrogante come considerazione fare questo tipo di valutazioni che soprattutto non tengono conto dell'impegno quotidiano di una rappresentanza sindacale che ha la stessa dignità in un paese in cui chi sceglie di impegnarsi per i lavoratori e per l'interesse del lavoro deve avere la stessa dignità proprio perché l'impegno è comunque lavoro di queste persone e di questi operatori nel mondo del sindacato e deve avere maggior rispetto a prescindere dalle varie posizioni politiche quindi trovo una palese contraddizione nelle parole del consigliere Bini quando non si prende in considerazione il rispetto per una rappresentanza sindacale che ha la stessa dignità a prescindere dalle posizioni politiche credo poi sia importante e qui viene poi la differenziazione anche con la posizione del capogruppo di maggioranza e ovviamente con il gruppo proponente dell'ordine del giorno per quanto riguarda l'operato del governo nell'affrontare la crisi si è detto molto spesso che questo paese si è trovato di fronte a una crisi internazionale come tutti gli altri paesi l'ha affrontata a testa alta comunque non riportando quei problemi che oggi l'Europa si trova ad affrontare credo con i casi dell'Irlanda e con i casi della Grecia credo ci vorrebbe forse più onestà intellettuale per ricordarselo nonostante quel debito pubblico che certo non è responsabilità di questa maggioranza e che comunque per varie ragioni gli ultimi governi anche dopo anche con l'avvento della seconda repubblica nessuno ha avuto il coraggio di affrontare in termini economici importanti io credo che non possa essere sottaciuta la politica del governo del rifinanziamento della cassa integrazione del rifinanziamento della cassa integrazione in deroga molto importante anche per la regione toscana che è la terza regione per quanto riguarda l'accesso ai fondi della cassa integrazione che quindi forse tanto in salute più delle altre ragioni come in realtà si vorrebbe sostenere non è che ha una fortissima crisi del manifatturiero e che comunque nonostante tutto vede protagonista il governo nelle crisi aziendali come sul caso Electrolux come sul caso più difficile diciamo di altre realtà che oggi presentano una crisi industriale profonda che prima di tutto è una crisi industriale e di ruolo all'interno del sistema produttivo internazionale e nazionale problema che non è mai stato affrontato anche a livello locale per la promozione di un'impresa veramente capace di competere a livello internazionale io credo che su questo vada ricordato l'impegno rigoroso del governo con la visita anche del sottosegretario Saglia la settimana non la settimana scorsa 15 giorni fa a Firenze che ha visto appunto il governo in prima persona prendere impegni per il rifinanziamento della Cassa Integrazione Cassa Integrazione che è stata rinserita nella legge di stabilità rifinanziamento della Cassa Integrazione Inderoga che anche essa è stata inserita nella legge di stabilità come tutti i provvedimenti che sono stati presi per il rifinanziamento per il cofinanziamento del trasporto pubblico locale del riassestamento del patto di stabilità del finanziamento della riforma universitaria anche questo è un passaggio importante con oltre un miliardo e mezzo di euro di finanziamenti ad una riforma che può piacere o non piacere ma è anche oggettivo dire che è il primo governo che finanzia veramente una riforma del sistema scolastico io credo che questi nonostante la crisi del governo stesso e l'evidente impasse politica che in questo momento questa maggioranza sta vivendo per varie ragioni io credo che sia onestamente ed intellettualmente corretto non dire che questo governo non ha tentato e non ha fatto quello che poteva fare per affrontare la crisi e soprattutto credo non sia corretto nei confronti dell'operato di tante persone che si sono spese per questo territorio continuare a fare manifestazioni faziose che in questo momento non servono al paese e non servono alla costruzione di un futuro anche per i lavoratori stessi bene grazie consigliere ci sono altri interventi consigliere Caccione il consigliere di dire senza che è un po' anche un tradittorio perché come si fa a dire che nell'intervento di presentazione il capogruppo il mio capogruppo compagno guini non rispetto la dignità degli altri sindacati e poi dire che questa è una manifestazione faziosa allora cominciamo a rispettare il sindacato più rappresentativo che l'ha spiegato sembra di no cominciamo a rispettare il sindacato più rappresentativo un sindacato che per sua storia non ha mai non ha mai fatto degli interventi manifestazioni o scioperi anche importanti che non avessero come obiettivo l'interesse del paese non è mai stato un sindacato fazioso da questo punto di vista certamente è un sindacato quindi difende i lavoratori ma i lavoratori sono anche cittadini e difendendo l'interesse dei lavoratori si difende l'interesse del paese perché quando si dice che il governo dei miracoli ha fatto tutte le cose di anzi diceva il consigliere Borgherini si fa il gioco delle tre carte lo so che è un'espressione quasi volgare da quanto è in disuso diciamo così però ecco sì perché da una parte si toglie 10 e da un'altra si dà 0,1 perché prima si è fatto la cosiddetta macelleria sociale e poi dopo si è fatto rientrare in qualche maniera si è detto guardate vi si leva tutto e poi dopo invece quando uno spensa e ormai sa che vi ha tolto tutto gli si fa riapporrire uno 0,1 e si dice guardate ragazzi e questo non è accettabile e noi non possiamo come dire come consigliere comunale come istituzione non prendere parte e non prendere una parte che è la parte poi da parte dei cittadini da parte del paese perché la crisi c'è stata e c'è stata per tutti però altri paesi che non sono certo paesi comunisti si comportano in maniera diversa e qui qualche perplessità mi viene anche la proposta poi chiaramente ci esprimeremo sull'emendamento in maniera più chiara quando anche lo vedremo in forma scritta però qualche perplessità mi viene anche su quella è la proposta che ci viene fatta dal gruppo consigliare del partito democratico non so se è la stessa che fa il gruppo consigliare dell'italia dei valori se interviene oppure con questo non voglio che tutti si senta obbligato ad intervenire il consigliere di murale ma comunque poi ci dirà se è la stessa però al momento ci sembra che sia la proposta del gruppo del partito democratico però vedete oggi c'è stata la conferenza stampa del segretario della camera di lavoro di Firenze e ha parlato di cose precise che non riguardano solo